Allora ragazzi siamo qui, è un po' freschino, è un po' freschino, leggermente fresco, qui vediamo le moto, anche se non le giriamo si vede tutto, poi lo condivido appena arrivo, sta nevicando Fiocca? Robertino e Robertino, i due Roberti, mi sembra quando eravate ancora figli che venivano in officina a rompere i coglioni, è passato un po' di tempo, vieni a 55, sono tanti E allora vedremo questa motopefana, quanti ce n'hai tu? 43, quando ci siamo conosciuti avevi iniziato l'apprendistato da poco, perché tu hai iniziato lì, quanti ne avevi? 18, 18, 17 Le scarpe? C'ho due paia di calze sotto Allora blocchiamo questa registrazione